Buon appetito, il mio nuovo gioco Pokémon Master Con lezioni No, no Non è questo Pokémon Non è un altro Pokémon Eh, no Annulla Chiusi Eh, dai, lascia stare Non c'è un altro No, non lo aggiungo No, perché l'ho fatto? No, perché l'ho fatto? No, perché l'ho fatto? Grazie a tutti. 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 Matti, Grazie a tutti. Ok, Pikachu. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Un uomo. Grazie a tutti. Mamma mia. Ok. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok. 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 1. Pokémon era sempre... Ok. 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 and everything related to your team. That's lovely. Thanks for stopping by. Oh, congratulations. ok ok vai aggine dentro avanti avanti ok nooo non mi interessa ok 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 no ok ok 20 no 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 patria comea sordia capito es blocat la tua vita la tua vita e la tua mare e la tua verba che non ce ma su difficili e la tua vita e la tua vita scusami ehi non puoi camminare per provare tu puoi camminare toma che non puoi camminare ehi 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 Marti ti stanno cercando come? stanno orribili oh no ora 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 come questi pelati che sono? vedi? torno a me ehi dai ehi rli a rli a a non 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 si Grazie a tutti.